L'obiettivo è nelle prossime settimane, stiamo trasferendo tutte le famiglie nei nuovi alloggi, poi bisogna dare il tempo alla ditta, non è che una vela si abbatte in poche ore, ma ci siamo. Quel termine che ha usato lei, ci siamo, lo confermo. E poi un'altra cosa, Bagnoli. Sono stati stanziati i fondi, circa 300 milioni, questa volta si arriva alla bonifica oppure no? Assolutamente sì, questa è un'altra conquista della città, attendiamo le ruspe che ci piacciono, cioè quelle che bonificano Bagnoli e il governo ci ha garantito soldi e tempi rapidi attraverso la struttura commissariale.